L'estate italiano, un'estate italiana, vedo alberghi chiusi e scuole aperte, vedo ospedali vuoti e discoteche chiuse, vedo bagni pubblici sporchi, anzi puliti. Adesso ragazzi iniziamo a parlare di quest'estate italiana, l'estate meravigliosa. Fanno i castelli di sabbia, i castelli di sabbia rappresentano il divertimento, rappresentano la fine dell'estate e l'inizio dell'inverno, capito? Tra poco potrei benedicare, attenzione perché è molto freddo, pantaloni corti e infradito mi raccomando, quindi andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, comunque dai va bene lo stesso, è un po' storto, a dire il vero è un po' storto, però dai va bene lo stesso, capito? Volevo fare un po' di visualizzazioni, volevo fare, volevo fare un po' di scritti perché qua sulla piattaforma dicono che è pandilo, pandilo, c'è tutto un gran parlare su pandilo, ma io cosa ho fatto di male pandilo? Quando parlo di pandilo tutti si dicono, è impressionante, è impressionante, pandilo, pandilo, il pandilo. Pensa quando mi è venuto in mente di chiamare il mio canale, il mio prodotto, il mio brand, pandilo, il pandilo. Voglio fondare una squadra di calcio, pandilo, poi ci sono quelli che se la tirano e fanno i raduni, il mio è un raduno di persone, è un raduno di idee, ok? Il mio è un nuovo prodotto, è un nuovo partito politico, ci prepariamo a guidare il paese insieme con degli ideali, dei valori, dei principi. Comunque dai, forza, godiamoci l'estate, godiamoci le vacanze, abbiamo bisogno di relax, abbiamo bisogno di stare insieme, abbiamo bisogno di skills, abbiamo bisogno di un cocktail ghiacciato al tramonto.